Frullato per combattere linsonnia Combattere linsonnia in modo efficace non è facile, lo sappiamo bene. . Ricorrere ai farmaci non è sempre la scelta adeguata, soprattutto se il nostro problema è occasionale, a volte, però, per quanto ci sforziamo di mantenere sotto controllo lo stress o lansia, non vediamo nessunaltra alternativa possibile. . Gli specialistici consigliano di cercare rimedi che meglio si adattano alle nostre necessità. . C'è chi trova conforto in determinate tecniche di rilassamento, altri nell'uscire e nel camminare qualche ora prima di andare a letto e molti nel cambiamento di alcune abitudini di vita. . Ebbene, una cosa che non possiamo dimenticare è che la nostra dieta è fondamentale per dormire bene. Esistono determinati alimenti che ci attivano e che non sempre riusciamo a digerire bene. . Tutto ciò obbliga il nostro organismo a realizzare lavoro extra quando dovrebbe essere rilassato e pronto per portare a termine in modo adeguato i compiti di disintossicazione normalmente svolti durante la notte. . I frullati naturali, leggeri e digestivi sono molto efficaci per combattere l'insonnia. Di seguito vi proponiamo questa fantastica opzione. Combattere l'insonnia con questo frullato delizioso e sano. . Nel nostro frullato includeremo frutta e verdura fresca, ideale per favorire un adeguato riposo. Si tratta di ingredienti facili da trovare che vi permetteranno di preparare questa ricetta in poco più di 15 minuti. . Prendete nota di quali ingredienti magici vi permetteranno di dormire molto meglio. . Siamo abbastanza abituati a mangiare la mela appena svegli. Tuttavia, quando soffriamo di insonnia, vi proponiamo di apportare un piccolo cambiamento, mangiarla di sera. . La mela è ricca di quel tipo di fibra solubile che migliora la nostra digestione e che, a sua volta, favorisce la corretta circolazione del sangue. . È capace di rilassare il nostro organismo e di favorire il corretto funzionamento del fegato grazie alle sue molteplici vitamine. . . Non possiamo dimenticare che il fegato, così come il sistema linfatico, compie numerosi compiti di disintossicazione durante la notte e questo frutto può aiutarci. Bisogna anche segnalare che, grazie ai polifenoli, riduciamo il livello di zucchero nel sangue. . Tutto ciò beneficia il nostro organismo ed evita quei pericolosi picchi di glucosio che possono interferire con il nostro riposo. . È probabile che avrete già usato il cetriolo più di una volta per rilassare la pelle o per ridurre le occhiaie. La polpa di questa verdura ha proprietà antinfiammatorie e disintossicanti. . Se invece di applicarlo sulla pelle, lo assumiamo sotto forma di succo, il nostro organismo ce ne sarà grato. . 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 In questo modo, andrete a letto più riposati e avendo già terminato la digestione. Noterete gli incredibili risultati. Grazie a tutti